Nel corso della mattinata in provincia di Napoli, Caserta, Roma e Forlì, i militari del comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione in un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di 16 indagati ritenuti responsabili a vero titolo di associazione di tipo mafioso, omicidio, tentato omicidio, estorsione, detenzione, eccessione di sostanze stupefacenti, porto e uso illegale dal mirafuoco ed altro. Le indagini hanno consentito di ricostruire la piena operatività del clan Giannelli, operante nella città di Napoli, nel settore delle estorsioni e del narcotraffico e la conflittualità con il gruppo esposito Nappi-Bitonto, attivo nel medesimo contesto territoriale. In particolare le investigazioni coordinate dalla DDA di Napoli hanno permesso di ricostruire come tali organizzazioni camorristiche rientrino nella sfera di influenza e di controllo del clan Licciardi, famiglia aderente allo storico cartello della criminalità organizzata denominato Alleanza di Secondigliano. Le acquisizioni investigative hanno consentito altresì di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in relazione all'omicidio di Zinco Rodolfo avvenuto il 22 aprile 2015, commesso per l'affermazione degli scopi criminali del clan Giannelli in quell'area. Nel corso delle indagini sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza anche in relazione al tentativo teso ad uccidere di Giannelli Alessandro e il Pinto Roberto, riconducibili a controversie, sorte per il controllo del traffico di droga in contrapposizione con la famiglia facente capo a Monti Agostino e ad adunazione di intimidazione armata commessa da appartenenti al clan Giannelli, mediante l'esplosione di colpi di Kalashnikov verso abitazioni riconducibili alla famiglia Monti.